Ascolti TV martedì 21 marzo 2023, il commissario Ricciardi Tre Sorelle, Belve, Le Iene, dati Audit e Lesher. Ascolti TV martedì 21 marzo 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione TV è stata ricca anche ieri. Ora che la settimana ha preso il via il weekend è ancora lontano. In ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche il martedì sera. Il palinsesto. Tra serie TV, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rayo Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri. Di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. I dati di ieri sera saranno diffusi in ritardo a partire dalle 12.00 a causa di alcuni problemi. Partiamo dalla TV pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rayo Unlitro ultima puntata della Fiction Collino Guanciale il commissario Ricciardi 2 conquista. 0.00 spettatori pari al percento di share. Per Rayo Unlitro ultima puntata del talk show Belve piace a 0.00 spettatori con il percento di share. Per Rayo Unlitro 3 invece il programma d'approfondimento carta bianca conquista una platea di 0.00 spettatori con il percento di share. Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su canale 5 il film 3 sorelle catalizza l'attenzione di 0.00 spettatori con uno share del percento. Su Italia Unlitro invece lo show Leiene Show 2023 porta a casa uno share del percento a fronte di 0.00 spettatori. Su rete 4 fuori dal coro totalizza una montare di AM 0.00 spettatori, per cento. Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Sulla 7 il programma d'attualità di martedì appassiona. 0.00 spettatori con il percento di share. Su TV8 il film Venom 2018 è stato seguito da 0.00 spettatori con il percento di share. Su novel film Joker Wildcard segna 0.00 spettatori, per cento di share. 0.00 spettatori con il percento di Să vă mănânc versi cu vers card intens Trezi să crezi, crezi ce vrei să crezi? Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor De zici că mă bat cu bossul La câte urâmb sun, cum să vă iau cu frumosul Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când a doi